Ciao amici di PhoneFixer Italia e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi andiamo a parlare di un power bank, anzi un solar charger di XD Neng, quello con due pannelli solari. Ne ho provati svariati in passato di varie marche, alcune ragazzi non sono riuscito a portarli semplicemente in recensione. Il secondo pannello era finto, non caricavano, scaldavano tantissimo, dopo un po' morivano. Sapete delle marche minori su Amazon Italia, ne trovate veramente tante, quindi fate attenzione a quelli che comprate. XD Neng è un brand non più ormai emergente, è un po' che su Amazon Italia lavora bene. In passato, guardate, ho ancora con me il caricatore passato che ho recensito, il rugged, mi è caduto ragazzi forse 15 volt, è una cosa simile e resiste ancora, io mi muovo molto, vado in giro, faccio fotografie, campeggio, viaggio, quindi per la mia attrezzatura ho sempre bisogno di una cosa che non si rompe, e questo ragazzi non si rompe, e soprattutto che funziona. Un pannello solare abbastanza lentino nella carica, ma regge fino ad adesso. Questo ci fa capire quanto XD Neng sta lavorando bene sui propri prodotti. Ora lo mettiamo da parte, concentriamoci sul nuovo prodotto. Ragazzi, anch'esso ha un'anima rugged, molto resistente, molto fatto bene, è qui completamente rinforzato, però da 10.400 mAh, più contenuto, più piccolino, più ovviamente più maneggevole, si chiude, questa trama in simile pelle è veramente fatto bene, elegante, per una borsetta, cruscottino della macchina, però quando si apre, ragazzi, 1.68 W di carica per pannello, sono veramente tanti, restituisce 10 W di amperaggio, in totale, secondo le specifiche, posso caricare a 2.4 A su una singola porta, 1 A,2 se uso entrambe le porte. Si può ricaricare a 5 V 2 A, quindi non abbiate paura di attaccarlo al vostro caricatore, quello da 2 A massimo del vostro smartphone, così fate un pochettino prima, o non lasciate il computer acceso tutta la notte per caricarlo. Funziona bene, 10.400 mAh, abbastanza reali, ho caricato praticamente di tutto con questi 10 giorni di prova che ci ho fatto, mi sono trovato sicuramente molto bene, la carica solare non l'ho sfruttata tanto, perché ragazzi, inverno, il sole ce n'è poco, ma in una bella mattinata di un sole tiepido, sono riuscito a dargli quasi due tacchette, e sono riuscito a ricaricare il mio Moto G 2013 per intero, quindi ho visto che la carica solare funziona, ma adesso ragazzi, dopo la sigla, passiamo al banco e vediamo un pochettino come funziona. Eccoci amici qui al banco di prova, così vediamo un pochettino come va questo XD Nang, come è fatto da vicino, mettiamolo un attimo qui da parte, anzi, mettiamo così, girato nel verso suo, ci arriverà con la classica confezione in cartone riciclato, con le specifiche dietro, qui il codice a barre che ci spiega un pochettino il nome, iPad, ci fa vedere mobile phone, camera, microfoni, fotocamere, cuffie, insomma, quello che in teoria si può ricaricare, al suo interno troviamo un solo cavo, è un classico, anche con due porte troviamo sempre un solo cavo USB, micro USB, poi troviamo un simpatico moschettone come nelle versioni precedenti, nel modello precedente che ho già recensito, che ho fatto vedere prima, questo si aggancia così e possiamo tranquillamente appendere il nostro, ragazzi, caricatore, così se lo vogliamo aprire, guardate, questa con questa maniera, lo appendiamo bello ad uno zaino, ragazzi, e tu carica la corrente, mentre noi, energia solare, mentre noi ce ne andiamo a spasso per la montagna. C'è la plastichina dove era contenuto e sicuramente ci arriverà ben imballato, e troviamo un pochettino di manualistica. Da un lato, guardate, più lingua, inglese, cinese, giapponese, tedesco, portoghese, francese, spagnolo, l'italiano, ragazzi, non c'è. Comunque, poco male perché c'è veramente poco da dire su questo prodotto. Passando alle specifiche più tecniche, abbiamo delle misure di 17.8 centimetri per 11.6 centimetri per lo spessore chiuso, così di 3 centimetri precisi. Abbiamo un corpo veramente resistente sul retro, qui abbiamo una bella armatura, tra virgolette, rugged. Molto, molto, molto ben fatta. Sul retro troviamo questo quadrato con i LED flash, ve li faccio vedere, teniamo premuto a lungo, si accende una luce, ragazzi, che è veramente, veramente potente. Un altro click si andrà al lampeggio, così l'SOS, guardate. Abbiamo questo SOS, un altro tasto, luce più veloce, quella che praticamente usiamo sulle nostre biciclette di notte, poi si spegne. Un piccolo click, invece, si va a vedere la carica residua. Per controllare la carica, sia in stato di scaricamento che in caricamento, basta sfiorare il pulsante qua. Abbiamo 5 LED. I primi 4, a partire da sinistra, sono di colore blu, e indicano la carica della batteria. Quando lampeggerà il penultimo pallino, cioè l'ultimo dei blu, sarà ora di ricaricarlo. Il primo, invece, vedete che non si accende mai. Perché? Perché si diventerà verde esclusivamente quando lo metteremo al sole a caricare. È dotato di due pannelli solari ben fatti. Qui si può vedere anche la bella cucitura sul pannello, diciamo, quello che richiude veramente ben cucito e ben fatto. Abbiamo una batteria interna da 10.400 mAh, più o meno reali. Io comunque, ragazzi, ci ho caricato un tablet da 7.600, 7.800, ci ho caricato un altro telefonino da 2.000, quindi sui 9.000, scarso 10.000, io sono arrivato. Quindi, diciamo che perdono sempre un pochettino tutti. Abbiamo la sua capacità dei pannelli solari, sono veramente pannelli solari buoni, la capacità è alta, abbiamo 1.68 W ciascuno di capacità di ricarica. Comunque è una ricarica, ragazzi, lenta, come tutti i pannelli solari, ma è una ricarica che mi è piaciuta, rispetto messa a confronto con altri modelli un pochettino più blasonati. Amici, facciamo una prova qui di carica. Questo è grosso modo i prodotti, sono i prodotti che ho caricato nell'ultima settimana di prova con questo Solar Charger di XD Nang. Abbiamo uno smartphone, vedete un Joypad Bluetooth, un Action Camera, la E-Lite, che ho recensito proprio pochi tempo fa, il mio mouse, Azure, qui, con la ricarica USB, che uso per il mio PC, le mie cuffie Blue Radio, con l'ingresso Type-C, poi magari cambio cavo, ho recensito anche tablet, ho recensito anche tablet, ragazzi, senza alcun problema. Basta inserire qui, vedete, una presa. Vi faccio vedere come lui riesce a caricare ogni genere di prodotto, senza dover premere nessun altro tasto. guardate lui è andato in carica, quindi non dobbiamo premere praticamente niente, si accenderanno le spia qui con l'indicatore della batteria automaticamente e il dispositivo andrà sotto carica. nessun problema neanche con i dispositivi, ragazzi, più piccolini, come, vedete, magari abbiamo il GameSir, qui il Joypad, che sta caricando senza problemi, vedete, sta lampeggiando bene anche lui. il mouse, possiamo veramente caricare di tutto, lui regola automaticamente in base alla corrente che il dispositivo attaccato necessita, quindi non rischiamo di bruciare niente, ma ne che va, smette di caricare e va in protezione. Proviamo anche la nostra action camera e-light, con una piccola batteria da 1200 mAh. Non sono molto comodo, ragazzi, dietro il cavalletto. Eccoli qui, la e-light che sta caricando praticamente a dovere, la spegniamo anche, che intanto l'ho accesa e lui caricherà la batteria senza, ragazzi, alcun problema. Ora, lasciamo la e-light a caricare, inseriamo un altro cavo con micro, la Type-C, ragazzi, perché le nostre Blue Video necessitano della Type-C, quindi, inseriamo qui la Type-C, cavo Type-C non in dotazione, guardate, immediatamente, loro, anch'esse, insieme all'action camera, stanno caricando perfettamente. Quindi, ragazzi, io passerei alle conclusioni, un dispositivo di ricarica, un Power Bank, Solar Power Bank, che mi è piaciuto, che mi ha convinto, ed è veramente un ottimo prodotto. io vi lascio l'acquisto in descrizione a questo video da Amazon Italia Garanzia Italia, vi ricordo di spolliciare in su il video se vi è piaciuto, di ricondividere questo video con i vostri amici, parenti e familiari, venitemi a trovare anche su Facebook, Instagram, io vi aspetto per tutte le domande di cui avete bisogno, ci vediamo alla prossima recensione, e ciao!